Mi senti Cesare? Pronto? Sono Francesco Repice, ciao Cesare, ben trovato. Ciao Francesco, tanti auguri, buon Natale. È la prima volta che vedo la Fiorentina quest'anno e sinceramente non sembra la squadra così aggravata, così piena di problemi. Non mi è parsa, lo svolgimento della partita è stato quello d'accordo, magari condizionato da episodi, però la sicurezza che la tua squadra ha avuto dopo il gol e dopo la superiorità numerica mi ha francamente stupito. Dovresti venire un po' più spesso a vederci e seguirci, quindi siamo contenti perché ho chiesto alla squadra coraggio, un po' di sfacciataggine e ci siamo riusciti. Poi è chiaro che tante volte sono gli episodi che ti danno anche un piccolo aiuto e questo va detto, perché quando rimani in dieci diventa sempre molto più complicato anche se sei una grande squadra. Però noi stasera siamo stati molto ordinati, siamo stati aggressivi al momento giusto, ma soprattutto abbiamo avuto tutti la voglia di fare risultato e questa mi sembra la cosa più importante. Buonasera mister Luca Cavallero-Tienvo Redio. Volevo chiederle, lei ha lanciato tantissimi giovani e le volevo chiedere un giudizio sulla prestazione di Vlaovic e secondo lei quanti margini di miglioramento ha ancora? Grazie. A Dusan da quando sono arrivato ha fatto sempre delle ottime prestazioni, è arrivato vicino al gol parecchie volte, ha vent'anni e quindi non gli si può chiedere che in pochi mesi possa diventare un giocatore con malizia, un giocatore che ha la capacità di intuire certe situazioni, però ha determinazione, entusiasmo, secondo me è un giocatore importante. Se continua così e se non si abbatte nei momenti particolari, io penso che possa essere un giocatore veramente di grande livello. Salve mister e complimenti. Ha vissuto grandissimi momenti con la Fiorentina, vittoria di Liverpool, i gol di Osvaldo che hanno significato la Champions League. Questa partita come la mette come sensazione? Sul podio delle sue partite migliori oppure no? Se diamo continuità al nostro campionato sicuramente sarà una partita che ricorderemo e sarà sul podio. Dipende tutto da noi perché insomma io non mi accontento di una vittoria, anche se fatta su un campo difficilissimo e contro una squadra straordinaria, però noi dobbiamo continuità. Adesso però godiamoci qualche giorno con le famiglie, poi alla ripresa sicuramente analizzeremo tutti i dettagli. Stasera ci sono comunque tante cose positive. Grazie, auguri a tutti. Grazie. Grazie.